Ricordi d'infanzia Un sentiero nascosto fiancheggiavano un rivolo che ci portava come percorso tracciato ad un vecchio mulino. Dal cigolar delle pale pensavamo fosse infestato da spettri. Dove sono le rondini? Dove hanno portato il loro nido? Dove le lucciole che illuminavano le calde serate di luglio? E il fresco ventilar di pioppi, cipressini, che parevano toccare i bordi del cielo? Ripassando dalle parti del cuore, rivivo l'eccellenza di quel tempo genuino.